Ehi, allora, partiamo o no? Quindi? Io a Play l'ho schiacciato. A sto giro l'ho schiacciato. Fatti a... No, no, no. No, 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 no. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. E c'è qualcosa che sottotamente non va. Eccolo, diciamo, ah, io coglione! Io... Va a fattura, va a fattura. Va a fattura, va a fattura. Va a fattura, va a fattura. Io... Cosa? Cosa può sbagliare, vai, va a fattura. Sb***a le fattura, la mia c***a, sa il culo, io... Perché? Cazzo! Cosa può sbagliare, vai, va a fattura. La chiusura, la chiusura, va a fattura. È venuta un'ottima merda questa, si si è venuta proprio una merda